Avete vinto 3-0 il derby col Trestin, la prima di un set molto ripulati, il terzo è andato molto bene? Sì, siamo partite un po' malino diciamo e dopo ci siamo riprese, il secondo set siamo andati un attimo in difficoltà, ricezione soprattutto, però ci siamo riprese, abbiamo vinto il set e poi il terzo è stato più facile diciamo. Insomma gli allenamenti per la partita e anche in merito alla squadra che abbiamo di fronte ogni domenica, ogni sabato.